Io l'ho incontrato una delle prime volte nel 1945, quando lui era il rappresentante del Partito Socialista nella Resistenza e alcune volte ho avuto modo di incontrarlo anche a Torino, ma ci siamo sempre frequentati con molto senso di responsabilità il dovere di riconoscere a un personaggio come lui che si era buttato nella mischia sin da allora durante la Resistenza, carcere, ha fatto di tutto ma ha mai mollato e vorrei ricordare tante cose ma diventa difficile. Per anni da quando non era più Presidente della Repubblica era più facile incontrarlo perché ci vedevamo puntualmente tutti i giorni alla Mensa del Senato a pranzare assieme io, lui e molte volte anche Fabio Fabri che era il capogruppo e poi Ministro della Difesa del governo Craxi. Durante l'incontro e la colazione si parlava del partito, si parlava dei partiti, si parlava di politica, si ricordavano le battaglie fatte assieme. Non poteva essere presentato questo film a Castellamonte senza che io in possibilità di farlo direttamente vi mandi questo messaggio di ringraziamento, questo messaggio che tutti voi che c'è qui dentro e i giovani della scuola avete collaborato per realizzarlo e per ottenere che venga presentato a Castellamonte. Io stasera non ci sono ma spero che andando avanti fra alcuni mesi forse sarò in condizione di riprendere il mio tran tran normale della vita politica e sociale per incontrarmi anche con voi e assieme poi decidere qualche iniziativa sempre in ricordo dei personaggi che stasera ricordiamo nel film, un saluto particolare alla Segre che non è presente. Tutti ricordano ma dopo un po' dimenticano, queste sono cose da non dimenticare. Le cose che avete fatto voi ragazzini delle scuole io l'ho fatto nel 1945. Martini l'ha fatto ancora più giovane di me. La Segre, un altro esempio da portare, l'ha fatto a 13 anni, deportata e eccetera. Quindi vuol dire che se i giovani sono sensibili, come avete dimostrato voi alcuni messaggi non passano e noi l'obiettivo di presentare questo film e presentare l'impegno della Memoria Viva sicuramente lascerà una traccia nei giovani di Castellamonte e con questo posso assicurarvi che in qualsiasi momento che c'è bisogno io sarò dalla vostra parte.